Provvisoriamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni della strada statale 115 sud-occidentale Sicula al km 204-750 nelle comune di Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il camion è precipitato da un ponte e il conducente è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Sul posto è presente il personale di ANAS, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione il prima possibile. Inoltre per la presenza di un altro mezzo pesante in fiamme il traffico sulla strada statale 626 della Valle del Salso è provvisoriamente bloccato al km 10 e 700 in prossimità dell'innesto con la statale 115 a Gela.